salve oggi vi faccio vedere un bel appartamento in questo stabile al terzo piano però volevo intanto farvi notare dove si trova siamo a san mariano a 100 metri dal centro commerciale la forse una delle cose più belle di questo appartamento è dove è ubicato guardate che bello stai in mezzo al verde lì ci sono tutti i giochi per i bambini parcheggio auto quanto se ne vuole l'appartamento è qui a terzo piano e adesso ve lo mostrerò facciamo un giro magari facciamo io vi faccio vedere il contesto di qua si accede ai garage naturalmente l'appartamento al garage sempre parcheggio privato il condominio e prosegue questa meraviglia di verde adesso andiamo a vedere eccoci qua siamo all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo bel ingresso e subito entriamo nel salone beh il salone è veramente un salone guardate che ampiezza mi trovo a posto anche uno studio naturalmente se dovesse occorrere c'è la possibilità di realizzare una terza camera chiudendo questo punto ma sarebbe un peccato che si rovina questo salone che bello così com'è andiamo verso la cucina è una vera cucina abitabile qui si può mangiare tranquillamente in 4 5 6 dipende dal tavolo che si mette passiamo al bagno il bagno di servizio che è poi anche usato come lavanderia ovviamente da questo disimpegno andiamo verso la zona notte questa è la camera dei bimbi ma è una camera matrimoniale adesso utilizzata per i bambini però può essere usata come camera matrimoniale qui c'è la camera matrimoniale principale ovviamente tutte le camere hanno accesso al balcone che dopo vedremo il balcone un terrazzo e girerà tutti intorno alla casa come vedete sono belle camere ampie e comode il bagno principale eccolo qui nel bagno principale abbiamo sia la vasca con il massaggio che la doccia una camona doccia e poi c'è questo valore aggiunto che è rappresentato dal grande terrazzo venite a vedere qui l'affaccio è verso il giardino siamo circondati al verde arriva fin là qui il proprietario ha accoltiato anche un piccolo orto qui finisce il nostro giro abbiamo visto tutto avete notato tutte le caratteristiche di questo appartamento in questo grande terrazzo che è uno sfogo sicuramente importante per i vostri bambini poi la casa ha quell'ampio salone vivibilissimo la cucina abitabile le camere matrimoniali e poi come avevo detto accetto commerciale a un passo il verde che ci circonda cosa si può volere di più chiamatemi per vederlo